E' uno scontro diretto importantissimo per la zona Champions Amici sportivi, buon pomeriggio e benvenuti ad Atalanta Juventus 31esima giornata del campionato di Serie A Ancora di bala, allarga per McKennie McKennie va fino in fondo, McKennie il cross in mezzo Gollini e Gosens ci mettono una pezza Ilicic, uno contro uno, punta Kulusevski Pallone fuori, ancora per Malinowski, altra chance per Malinowski Deviazione! E l'Atalanta in vantaggio Sfortunatissima la Juventus, ma i Bergamaschi passano A quattro minuti dalla fine, 1-0